Fratellino mio, buongiorno, come stai? Hai visto che luce sul mare oggi, bellissima. Cercavo una parola più complicata, ma alla fine è semplice ottimismo. Ora la galera già la conoscete, ma ok tutta sta problematicità. Però lo sei fatto, eh? L'ho esplorato un paio di volte. Te ne vai da qualche parte, ti mangio le ragoste e ti tagli le mani per non toccare troppe ragazze. Se ce la fai ti mando un premio. Vuoi scommettere? Noi non siamo abituati ai problemi per il semplice fatto che non ne abbiamo mai avuti. Tu sei ancora un poco sprucidello, sei acerco, questo è il tuo problema. Tu non conosci la parola dignità. La dignità è mediocre. La lascio a te. Lo sai che si sposa? Oh yeah! Non ti da noia questa cosa? No, affatto. Ma è l'amore della tua vita, Marco. E infatti, e quindi? Non ti ho detto di entrare, cazzo. Ci sono certe cose che non si possono fare e dust. Tutto si può fare e tutto è facile. Denunciare qualcosa di disonesto dovrebbe essere la cosa più facile da fare in un paese onesto. Ed è facile e non tutto si può fare. E lo so. E lo so, mannaccia a me, mannaccia.